Nighthogs at the diner, hammers for a nana. E' un personaggio più bello e più potente, ma allo stesso tempo è introspettivo. Se non allentiamo bene, alla fine per Tevaldo possiamo provare per lui pena e compassione. La donna è la scuola mia, lui mi ha svezzato presto a casa di papà. Le sue manie, le sue piccolie, paura e voglie di un amore tutto un solito. Le bionde, le brune tutte, ma una esiste a me. Perché? Perché? La mia cugina, la sorte è strana, l'ho vista bimba e adesso se la prende lui. Con un Montecchino e no, gli accetterò quel matrimonio assurdo tra figlio e la purezza. Oggi ormai, oggi ormai, oggi ormai, oggi ormai. Ti consegnerò il messaggio io, nessuno avrà l'amore mio. Mi ucciderò, ti ferirò come fa lei, la sua differenza Romeo pagherai. La donna è materia mia, ed io ci ho chiuso dentro il cuore di tempo fa. Io non ho osato mai e mai ci riuscirò a dirne che per lei crucio nel mio inferno. Oggi ormai, oggi ormai, oggi ormai, oggi ormai. Gli uomini si battono, i temporali scoppiano, ti ucciderò, no, ti ferirò come fa lei, la sua indifferenza Romeo pagherai. Il cuore grida, è una vettenda in me, l'amore come anch'io, assurdo amore è il mio. Mettete via l'onore, a chi muore per amore, ti troverò Romeo, lo giuro a Dio. Il mondo saprà che il mio cuore è a metà.